Il Salone dei Sapori è un viaggio attraverso la cucina dei nostri territori. E poi il Salone di Padova è sempre uno spazio che ha un grande fascino. Il Salone dei Sapori è una manifestazione che è nata per celebrare gli 800 anni dell'antico mercato coperto di sotto il Salone. Quest'anno valorizza tutte le eccellenze del mercato enogastronomico del nostro territorio. Questo è un luogo dell'eccellenza enogastronomica ma a fianco alla spesa aggiungiamo l'esperienza, quindi momenti di socialità, di degustazione per i turisti e le persone che oltre a comprare qualcosa vogliono buscare qua le migliori specialità sul posto. E dalle piazze di Padova, buongiorno mattino.